Una sorta di canile lager, quello scoperto dai carabinieri forestali di loro ciuffenna. Le indagini sono partite dal ritrovamento alla trappola in Pratomagno di quattro carcasse di cani morti gettate in una scarpata. Gli animali, tutti provvisti di microchip, erano stati uccisi con una pistola che di solito si usa nei macelli. L'esame autoptico eseguito all'Istituto Zoo Profilattico di Arezzo ha permesso la lettura del microchip e quindi di individuare il proprietario. Un uomo residente a Montevarchi, la cui abitazione è stata perquisita assieme agli altri luoghi da lui frequentati. In casa sono stati ritrovati sei collari elettrici per cani, mentre presso l'azienda dove lavorava, 14 cani di diversa razza ed età detenuti in condizioni non idonee, in alcuni casi anche maltrattati. Durante la perquisizione sono state sequestrate anche 15 cartucce a palla asciutta non denunciate. L'uomo dovrà rispondere di uccisione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, nonché per detenzioni di munizioni non denunciate.